Amici di Miral Inside, non la buttiamo dentro, purtroppo in Champions non la buttiamo dentro Due partite, clean sheet, difesa rocciosa, non abbiamo subito quasi niente né col Newcastle né col Borussia 100.000 tiri, quanti tiri abbiamo fatti? Tipo 21-23 col Newcastle, altri 15-20 ieri Di cui 3-4 soli davanti al portiere, non facciamo gol, hanno sbagliato più persone Quindi non è solo colpa dell'attaccante, anche se un Taremi ieri ci avrebbe fatto molto comodo Un attaccante ieri ci avrebbe fatto molto comodo Un Adli dal primo minuto ci avrebbe fatto molto comodo Siccome quando è entrato ha iniziato a illuminare il campo, contrastare, difendere, fare tutto Però il Milan gioca bene, gioca bene e comunque ci facciamo sentire Purtroppo la palla non è entrata, speriamo che col Paris Saint-Germain entri